Cosa portate quest'anno? Portiamo Duvetutanuda, una commedia brillante di Feidou, molto divertente. Siamo una trentina, facciamo tre spettacoli l'anno. Quella che faremo qui invece è stata la prima dello scorso anno. Qual è un po' la trama, se si può conoscere? Come no? Un onorevole. Invece di andare in vacanza deve andare in Parlamento. La moglie invece non vuole sapere, poi ti beccano di continuo. Perché ha l'abitudine, brutta secondo il marito, di andare per casa chiunque ci sia in sottoveste. Quindi anche davanti al figlio il marito si arrabbia. Lo farà davanti al sindaco della città, lo farà davanti a un giornalista che... Quindi è così. Alla fine c'è anche un signore che non si vede ma che è fuori dalla finestra, nella casa vicina, che ogni tanto sbircia per dare una guardatina. E naturalmente il marito. Gli attori sono quattro uomini e una donna. Vittorio è il servitore. Onorevole Panciaroli è Claudio Cappellacci che fa il primo attore. La Luciana Vallorani è l'unica donna. Poi c'è il sindaco Ugo Cioni, Giuseppe. Il giornalista dell'avanzo del Carlino è Roberto Borgiani.